Allora vincere si è vinto E anche questo era molto importante Passare siamo passati Ed era l'ora super importante Ma ho visto il 4-0 dell'andata Era quasi obbligatorio oggi Però nei commenti mi dovrei spiegare Che è successo nell'azione del gol annuato a Cabral Perché anche lì veramente non si è capito nulla Anzi All'arbitro gli era suonato l'orologio Ma poi sono andato a rivederlo Un casino incredibile Comunque Like, commento e condivisione del video Mi raccomando iscrivetevi anche al canale Arriviamo a 400 iscritti Che questa Fiorentina è passata E questa Fiorentina batte 3-2 il Braga Allora Primi 10 No, 10 minuti Insomma Nella prima mezz'ora di gioco Mezz'ora 35 minuti Tremendi Tremendi Proprio abbiamo visto Avevamo nervosi Con la paura C'è Buonaventura anche in Maratona Davanti alla Maratona Ha chiesto di fare calma E di stare più tranquilli Quindi insomma C'era un po' di nervosismo Era una squadra bella nervosetta all'inizio Poi ci siamo rilassati Abbiamo trovato i nostri spazi Abbiamo trovato un gol importantissimo Con Mandragora Che fino a quel momento Non era stato Diciamo impeccabile Ma poi ha trovato Una delle cose importanti Cioè il gol E poi nel secondo tempo Anche con l'ingresso di Terzic Che è piad'invertito Anche rispetto a un Dodò Ha fatto molto meglio Soprattutto a livello di corsa Di intensità E di atleticismo Abbiamo ritrovato più spazi In contropiede Abbiamo ritrovato anche Più ampiezza della manovra E siamo riusciti a fare Un bellissimo gol Con Saponara Che l'ha messo sul 2-2 Poi quella cosa di Cabral Che non si è capito Come sia veramente andata Lo scopriremo A posteriori E poi devo dire Un meritatissimo gol Di Cabral Che con una bella zampata Se non sbaglio Su un cross L'ha imbuzzata E anche questa è stata Veramente molto molto importante Adesso domani Alle 2 Se volete Passate sul canale Che seguiamo in live I sorteggi La Frentina per fortuna E vorrei anche vedere Sarà presente E altre considerazioni Non le faccio Cioè devo dire Allora la difesa Molto tra ballina Devo dire Molto insicura Su queste palle alte Nonostante loro di fisico Non fossero un gran che Ma molto più bravi Nella tecnica Li ho visti un po' tra ballini Non mi sono piaciuti Devo dire che non mi sono piaciuti tanto In attacco Devo dire non male Chi invece proprio Non mi ha convinto molto È stato bianco Devo dire un po' troppo leggerino Diciamo che si vede Che non è ancora pronto Per questi livelli Ma nemmeno per una partita Che l'andata era finita 4 a 0 Ecco Quindi non mi sento sicuro Nemmeno di metterlo In campo In queste partite Io sono sempre stato Dell'idea Che a lui un anno in B Magari avrebbe fatto meglio E un male Uno Zurkowski Al suo posto Avrebbero giovato Di più Sicuramente Però Sono state fatte queste scelte Quindi andiamo avanti Su questa strada Quindi Vittoria abbiamo vinto Passati Siamo passati Adesso speriamo di non beccare Una squadra esageratamente forte Oppure no Speriamo di beccare i West Ham Almeno così li buttiamo fuori E niente ragazzi Mi raccomando Come vi ho detto Iscrizione Commento al video Se vi va Condividetelo E noi ci rivediamo Domani Nella live Se volete Passate dal mio canale Seguiamo insieme i sorteggi E sempre sempre Forza Viola Ciao ragazzi